Questi gli allarmanti risultati che emergono dallo studio vietato ai minori realizzato da Moige, Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con Istituto Piepoli, presentato in Sala Zuccari al Senato. Per la ricerca sono stati intervistati 1.359 ragazzi fra i 10 e i 17 anni e i risultati fanno riflettere. Nonostante il 96% sia consapevole che l'alcol possa avere effetti nocivi sulla salute, il 57% di loro lo ha bevuto almeno una volta e il 4% lo fa abitualmente. Il 30% degli intervistati ha fumato invece una sigaretta nella propria vita, mentre il 10% lo fa abitualmente. E la cannabis? Il 6% ne ha fatto uso e addirittura il 26% lo ritiene legale. Passando alla pornografia e al gioco d'azzardo, la situazione non cambia. Il 42% dei ragazzi ha visto almeno una volta un contenuto pornografico, mentre il 18% ha giocato almeno una volta presso agenzie di scommesse, bar o sale bingo. Siamo molto preoccupati dei dati che emergono, dove emerge una rete distributiva, una filiera produttiva di prodotti vietati ai minori che purtroppo vengono ancora troppo, troppo venduti ai nostri figli. È un messaggio anche non solo sostanzialmente pedagogicamente inaccettabile, ma nello stesso tempo è anche un atto illegale che vanifica l'azione educativa dei figli. È fondamentale un controllo maggiore, aumentare le sanzioni e soprattutto stimolare le filiere produttive, le filiere distributive ad essere sostenibili, responsabili e far sì che siano rigorose nel rispetto delle normative che esistono. Altro aspetto è anche i videogiochi 18+, cioè i videogiochi a contenuto pornografico e violento per i maggiorenni, quindi vietati ai minorenni, dove non esiste assolutamente una legge, esiste solo un codice di autoregolamentazione e anche questo che è fortemente inapplicato nella parte appunto in cui bisogna non vendere ai nostri figli questi prodotti. Emblematico quindi il calo nei controlli. I commercianti non verificano l'età di chi compra. Il 76% di chi vende alcol non controlla i documenti, mentre solo a 4 ragazzi su 10 nel gioco d'azzardo viene monitorata la data di nascita, dati in calo rispetto a quelli del 2021 con il Moige per sensibilizzare i giovani e entra in campo anche Vodafone con una collaborazione nelle scuole. È dal 2017 che noi collaboriamo con il Moige per tante iniziative che sono volte diciamo a indirizzare il digitale nelle scuole nei confronti degli studenti. Una delle ultime iniziative, una anche delle più importanti, è l'EV8 che è un'iniziativa che ci consente di entrare a contatto diretto con le scuole, circa 50 scuole, un coinvolgimento di 2.500 studenti per prevenire un utilizzo improprio del digitale e quindi estendere già dall'inizio, già diciamo in termini estremamente positivi e costruttivi, una dimensione digitale e renderne una massima consapevolezza. Il tema insomma è molto delicato e molto sentito dal governo. La speranza del Moige è che il grido d'allarme dei genitori venga ascoltato.